Lei ha avuto la possibilità di andare a scuola? Sì, sì, io sono andata a scuola. Mia sorella è andata con un anno di ritardo perché ce ne siamo andati in campagna e lì forse scuola non ce ne era per tempo, non lo so. E allora io invece sono andata il giusto, il regolare, perché poi siamo scesi un'altra volta diciamo nel l'isola dove abitavamo prima. E tutto qua. E la vita quotidiana come si svolgeva? Si svolgeva praticamente io a casa mia c'era una grande spiaggia, c'è una grande spiaggia. La sera si andava a giocare nelle spiagge, non si andava né a discoteca né a cima né... Poi se volete giocare si metteva a giocare in quattro cantoni, non lo so se lo sapete che cosa significa. Quello era tutto il gioco. Le bambole di pezza che si facevano con lo straccio, tutto lì. Eravate tanti ragazzi? Si, quell'epoca si, eravamo tanti ragazzi e ci mettevamo in vivo al mare e lì si stava. Fino alle otto, alle nove, poi si andava a letto. Oppure, che ne so, si giocava a tomboli, si giocava a carte. Non c'era un altro gioco. futuro warmà, non c'era un altro gioco. Grazie a tutti.